ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video come al solito cerco soluzioni in base alle richieste che mi vengono fatte soprattutto qui in negozio e per chi non lo sapesse ho fatto un video ve lo lascio qua nelle schede perché io oltre ad essere un installatore ho anche un punto vendita bluetti prodotti domotici termostati come quello di oggi eccetera eccetera l'esigenza che avete spesso è quella di gestire un termostato smart quindi con l'applicazione da remoto quindi da fuori casa ma soprattutto in ad esempio casa al mare casa in montagna diciamo seconda casa dove normalmente non avete una connessione internet o si mette un termostato smart con una saponetta una sim dati e si crea una rete wifi domestica ma senza una linea fissa oppure l'ideale sarebbe avere un prodotto come questo ossia un termostato 4g 4g vuol dire che alla sim 4g perché è un sistema di trasmissione radio una rete che attualmente è ancora molto diffusa e resterà per molto tempo le reti 3g le stanno dismettendo piano piano le reti 5g non sono ancora alla portata di tutti ma per quello che deve fare 4g va benissimo e della vimar ho voluto prendere un prodotto di una certa qualità che desse delle garanzie dell'affidabilità nel tempo perché se compriamo un oggetto del genere che comunque costicchia perché mediamente costa sui 180 euro esiste bianco esiste nero che costa un po' di più vi lascio tutti i link in descrizione ma con questo risolvete il problema perché lo piazzate al posto di un termostato normale mettete dentro una sim dati dopo vedremo che ne userò una non famosissima ma funziona benissimo l'unica cosa vi dico subito che questo termostato ha bisogno di alimentazione punto primo nella scatola o nel punto dove è andata a cambiare termostato ci va a fase neutra del 230 volte e chiaramente a casa deve rimanere sempre il contatore abilitato quindi deve esserci una fornitura di rete perché va alimentato come di conseguenza va alimentata la caldaia perché altrimenti non parte perfetto l'anteprima del prodotto ve l'ho data adesso andiamo avanti col video ma prima mi raccomando che non costa nulla per voi solo un click ma mi dà un grosso supporto per far crescere il canale proviamo questo termostato allora eccolo qui il nostro smart clima 4g lte by vimar qui già l'anteprima di come rimarrà il prodotto tre anni di garanzia dove specifica che invece per gli acquisti online la garanzia è di 24 mesi i codici i numeri di serie tutto quanto compatibile con i comandi vocali dei due principali produttori lavora anche con i fttt chiaramente ci ricorda che è un dispositivo alimentato e che il contatto è al massimo da 5 ampere cosa ci dice ci dice che abbiamo anche un ingresso digitale personalizzabile tiriamolo fuori allora prima di tutto abbiamo tutta una manualistica in varie lingue qui abbiamo la fase dell'installazione dell'inserimento sim del montaggio a parete delle tipologie di installazione una specie di guida rapida anche sui comandi che poi abbiamo sul touch del dispositivo poi abbiamo invece tutto il manuale per quanto riguarda l'installazione ad esempio con dei circolatori bruciatori o elettrovalvole perché in morsettiera abbiamo altre opzioni che ci danno la possibilità di esempio di usare un contatto per una segnalazione allarme e appoggiarci anche ad un relè ausiliario queste sono diciamo installazioni più particolari di un livello più avanzato poi abbiamo la parte delle impostazioni dell'applicazione e della configurazione dove in fase di attivazione dentro l'app avremo poi a un certo punto l'inserimento dell'apn ossia dell'indirizzo su cui la sim si collega per avere l'accesso a internet i principali appn supportati sono team vodafone wind e iliad noi ad esempio proveremo con un'altra sim e vediamo come va chiaramente c'è la possibilità di usarlo anche senza applicazione e ci dà tutte le istruzioni ma verosimilmente lo utilizzeremo principalmente con l'app e arriviamo poi al dispositivo vero e proprio eccolo qui allora lui una volta montato si presenterà in questo modo quindi un quadrato bianco che al touch visualizzerà poi il display e i due tasti qua rimane una sporgenza non esagerata rimane molto grosso va ad agganciare sia su scatole piccole che su 503 ma anche a parete l'importante è avere qua l'ingresso cavi nella parte bassa ci sarà uno sgancio un pulsante e l'ingresso per il sensore di temperatura ambiente si apre facendo leva in questi due punti con questi quadratini grigi qui c'è il termostato dove andremo anche ad inserire la sim questa sarà la basetta e qui avremo la morsettiera alla morsettiera abbiamo accesso togliendo questo piccolo coperchio e tutto qua è tutto incastro e qua avremo fase neutro di nuovo fase neutro ripetuti poi abbiamo il comune lno questo sarà il contatto per un'installazione tipo con una caldaia allora la prima configurazione la facciamo a banco facciamo un po di prove vi spiego tutto quanto ma nulla vieta di farla direttamente dove verrà installato quindi fase e neutro i primi due morsetti a sinistra poi prepariamo il termostato inserendo la sim lo sportello si apre facendolo scorrere a destra ok richiede una sim formato micro non nano quindi vedete non bisogna staccare l'ultimo pezzettino ma bisogna fermarsi al penultimo se per caso avete sbagliato e la trovate direttamente nano la potete reincastrare nel pezzo più grosso se ve la danno direttamente nano perché alcune schede nuove ormai sono tutte nano dovete comprare a parte il kit di adattatore lei va messa in questo modo quindi con i contatti sulla parte sotto con l'angolo smussato di qua chiudete e si fa scorrere a sinistra in questo modo la sim è montata ho montato una sim optima vediamo poi se funziona ora sostanzialmente bisogna chiudere poi la parte della connessione con il connettore di protezione ora chiaramente rimarrà un po sollevato perché ci sono i fili e distributore mettiamo uno spessore sotto per andare in favore di camera ora procediamo in questo modo bisogna scaricare l'app che si chiama vimar view che non è vimar view product e non è neanche vimar view wireless proprio solo vimar view diamo tutti i consensi del caso configuriamo l'app in italiano quando andate avanti con l'app dopo aver creato un account ed esservi logati bisogna creare per forza un nuovo ecosistema smart e se già non ne avete uno quindi lo creiamo diamo il nome casa lo salviamo dobbiamo decidere se aggiungere il comando vocale a un termostato quindi dobbiamo a questo punto metterlo in modalità di accoppiamento gli diamo alimentazione ma lui in realtà è spento tenere premuto il pulsante qua per cinque secondi finché non si accende il led verde a questo punto bisogna tenere premuto il pulsante qua sotto deve uscire fuori bt ok così in modalità di accoppiamento andiamo avanti sull'applicazione quindi facciamo procedi diamo il consenso ricerca di un dispositivo diamo di nuovo il consenso termostato smart ld e col numero di serie andiamo avanti qua bisogna digitare la pn di configurazione della sim nel caso della sim optima che abbiamo inserito la pn uap punto optima punto it queste informazioni le trovate cercando semplicemente sul motore di ricerca apn col nome della sim e vi esce subito qual è l'indirizzo da scrivere bisogna per forza farlo a mano non lo prende in automatico andiamo avanti verifica credenziali di rete ora sta facendo verifica aggiornamento perfetto è stato aggiunto diamo un nome al termostato e lo chiamiamo termostato si può dare un nome all'uscita ausiliaria la chiamiamo uscita ausiliaria scegli ora la funzione da assegnare a relai presente sul dispositivo di tipo assistente vocali vimark l'uscita che è predisposta sulla morsettiera possiamo decidere se può fare altre cose oppure una luce in questo caso gli diamo una luce diamo il fuso orario salviamo diamo la possibilità di ricevere delle notifiche sempre meglio perfetto il nostro termostato è online vedete che nell'applicazione c'è esattamente quello che abbiamo display allora 21 e 2 quello che rileva in casa e va bene 18 è quello che abbiamo impostato nell'app se io abbasso la temperatura in manuale qui quindi con un tocco simbolo vedete vado giù a 17 e vedete che ha risposto praticamente in modo quasi immediato anche in applicazione chiaramente se vado ad alzarla quindi superiore a quella dell'ambiente la mettiamo a 28 e mezzo riceve il comando ha cliccato quindi ha abilitato il contatto vedete che si è accesa la fiammella e abbiamo una sincronizzazione pressoché istantanea quindi molto molto bene chiaramente avete visto che anche con una sim di quelle non più comuni ha funzionato correttamente basta impostare quel parametro dell'apn e secondo me potete usarlo con praticamente qualsiasi sim 4g allora lui adesso sta lavorando il grosso l'abbiamo visto lui rimane sempre comunque con questa modalità di temperatura visibile queste luci laterali vogliono dire la nuvoletta che il cloud è connesso e deve essere verde il simbolo del della ricezione dopo un po la luminosità va giù per il risparmio energetico il simbolo qua sotto della ricezione dice che l'eltier 4g agganciato e deve essere verde quindi quando qui di lato è verde regolarmente connesso ora è spento perché non è acceso lateralmente se lo accendiamo da applicazione lui si riattiva e questo simbolo bianco in mezzo vuol dire che il relè interno per il riscaldamento della caldaia è attivo basta che abbassiamo prende il comando stacca l'uscita si spegne questo vuol dire che l'uscita verso la caldaia è disattivata il led ancora più sotto sarebbe quello dell'uscita ausiliaria se noi l'attiviamo da applicazione tempo che prende il comando e vedete che si attiva la luce bianca dell'uscita ausiliaria quindi molto comodo può essere usato come semplice termostato o anche per comandare qualcos'altro sfruttando l'uscita ausiliaria tempo che arriva il comando è tutto vedete che passa qualche secondo ma comunque risponde se ve la spegne di qua vuol dire che lui l'ha spento anche qua per forza il led verde ricorda che è acceso ma dopo un po si spegne principalmente in app avremo il comando luce il comando clima quindi torniamo al nostro termostato poi c'è quest'icona energia dove va a misurare eventualmente dei consumi ma queste sono funzionalità che al momento ignorerei nel mentre vedete che è arrivata una notifica che il termostato ha fatto anche un aggiornamento non ce ne siamo neanche accorti abbiamo qua delle impostazioni parecchie personalizzazioni possiamo scegliere se l'accensione può essere manuale riduzione automatico queste cose sono da studiare idem per il modo off abbiamo programmazione estate inverno possiamo gestire tutte le temperature estate inverno in automatico oppure diversificate possiamo decidere cosa viene mostrato sul display quindi la temperatura ambiente il set point quindi quello che impostiamo o il delta del set point perché può essere anche modificato qui possiamo correggerlo quindi se la visualizzazione è errata abbiamo una precisione di 0.5 gradi da regolare questa è una roba molto interessante possiamo attivare degli allarmi di sotto temperatura quindi se sta andando troppo giù ci avvisa e allora possiamo decidere se accenderlo e possiamo impostare la soglia idem per la sovratemperatura quindi poche cose ma quelle che servono assolutamente se vogliamo lasciare una temperatura minima 15 gradi noi siamo tranquilli che lasciamo un ambiente che non va sotto a una certa temperatura oppure attiviamo quell'allarme antigelo chiamiamolo lui ci avviserà con una notifica e noi possiamo andare a intervenire magari far partire la caldaia poi chiaramente gli scenari di utilizzo sono molteplici sono contento che funzioni anche con una sim non super blasonata e basta perché poi comunque semplicemente quando ce l'avete davanti potete modificare il set point a passi di 0.5 tutto normalissimo ma avete un termostato completamente smart e completamente dissociato da wifi reti non bisogna chiedere al vicino non bisogna mettere una saponetta un modem un telefono nulla lui alla sua sim si connette e lo gestite da qualsiasi parte del mondo basta che il device con cui effettuate le operazioni sia sotto copertura di rete e sia connesso a internet molto bene molto semplice quindi niente di complicato anche per chi non è esperto ora invece andiamo a vedere come piazzarlo fisicamente a parete togliamo il nostro vecchio termostato in questo caso è un termostato a batterie di solito c'è sempre la protezione della morsettiera perfetto in questo caso arrivano i due fili della caldaia mi raccomando anche qui togliete corrente perché su un filo ci potrebbe essere un ritorno di fase i fili della caldaia sono collegati in una morsettiera e in questo caso sono collegati esattamente come vedete nel morsetto n a e c quindi comune e normalmente aperto che è lo stesso contatto che avremmo sul termostato nuovo lo svitiamo dal muro o comunque dalla 503 se c'è dietro e qui succede questo voi potreste avere o non avere la scatola dietro perché potrebbe essere anche tassellato a muro poi potreste avere due fili che arrivano che possono essere di qualsiasi colore se arrivano solo due fili vuol dire che quello è solo il contatto della caldaia se invece per caso avete già un termostato alimentato o comunque vi hanno lasciato una predisposizione nella scatola magari avete anche già la fase neutro per alimentarlo se non ce l'avete fase neutro bisogna portarli se non siete in grado a chiamare un elettricista vi fate aiutare da qualcuno ma bisogna portare per forza una fase un neutro nella stessa scatola dove arrivano i fili del contatto che va alla caldaia quindi a questo punto mettiamo la nuova base del nostro termostato vimar portiamo fuori i fili dal buco quadrato avvitiamo la base sulla scatola vedete che molto largo va a coprire anche eventuali magagne per metterlo giusto la scritta vimar deve essere leggibile colleghiamo quindi il contatto su comune ed no partendo da destra sono esattamente il primo il secondo poi mettiamo la fase che il primo a sinistra è il neutro ok i fili non devono dare fastidio al coperchio quindi fase neutro e gli ultimi due contatto possiamo mettere il coperchio di protezione con i buchi verso l'alto rimontiamo il termostato vediamo che si è incastrato bene che faccia click che si muova perfetto terminata l'installazione avremo il nostro termostato installato correttamente a parete vedete che rimane anche molto carino ora si può andare a dare alimentazione così vi faccio anche vedere quanto tempo ci mette ad andare online ok ho appena dato alimentazione tra un po si dovrebbero accendere i led perfetto si è avviato visualizza già la temperatura i due led sono ancora rossi tra un po andrà online la sim perfetto i led si sono spenti vuol dire che il termostato è già online infatti se premo un pulsante si riaccendono a questo punto il termostato è operativo abbiamo fatto l'installazione quando abbiamo ridato corrente è ripartito esattamente da dove era rimasto prima ho già verificato quindi che in caso di assenza di rete perché può succedere in una seconda casa quando poi torna alimentazione lui si riaccende e torna online perfetto abbiamo fatto tutte le prove come vi ho detto inizio video trovate il link in descrizione per amazon ma eventualmente potete anche ordinarlo e ve lo fornisco io direttamente se venite qui in negozio di solito uno in casa ce l'ho sempre lui comunque si chiama di codice 02 913 in colorazione bianca secondo me quello che costa vale perché risparmiate il problema di dover creare una rete wifi a casa è indipendente va sempre due annotazioni allora non ha una ricezione super potente se andate a metterlo in un punto dove già il telefono fa fatica a connettersi alla rete attenzione perché potrebbe non avere segnale a sufficienza seconda cosa quanti dati consuma allora vi faccio vedere che ho caricato il piano abbonamenti di questa sim optima appena ho iniziato a fare il video l'ho usato per un po di giorni e di dati non ha consumato praticamente nulla ottimo prodotto straconsigliato da vimar dovevamo aspettarci un prodotto di qualità l'app magari non è fantastica però quello che deve fare lo fa benissimo se vi è piaciuto il video un bel like mi raccomando che non costa nulla noi ci vediamo diretta il giovedì sera se passate quel negozio c'è sempre un caffè o al prossimo video grazie a tutti ciao da massidattoli ciao